I nostri ragazzi diversamente abili, i nostri portatori di handicap che combattono tutti i giorni, i nostri ragazzi gay, le nostre ragazze lesbiche, ma dove sono le elite? Quelle sarebbero le elite del pensiero unico? Forse sono i suoi elettori le elite, bianchi, ricchi, nordici, sposati e cattolici, queste erano le sue elite di riferimento. E poi abbiamo assistito con ancora maggiore ansia e maggiore angoscia al tour elettorale che sta facendo il Ministro degli Interni, che non ha detto una parola su due fatti bruttissimi che sono accaduti tra ieri e oggi. Ieri un ragazzo come Ibra è stato ucciso a fucilate, si scoprirà poi i motivi, caporalato, ricatti, mafia, camorra, si scoprirà, però non ho sentito una parola. Oggi è stato dato fuoco in Molise ancora prima che fosse attrezzato ed inaugurato ad un immobile nel quale forse ci sarebbe stato uno SPRAR, cioè un luogo di accoglienza per persone in attesa di identificazione e di concessione di cittadinanza. E non ho sentito una parola neanche su questo. Allora io faccio un appello e lo faccio in un contesto civile, in un contesto democratico, in un contesto progressista, come si è definito il nostro candidato sindaco Claudio. Il ministro degli interni si deve occupare di sicurezza, ma la sicurezza passa dai messaggi che dai, la sicurezza passa da come tu dici ai tuoi cittadini, non c'è nessun rischio se incontrate Ibra per strada, non c'è nessun rischio se in uno SPRAR vengono accolte delle persone, non c'è nessun pericolo ad integrare persone che ne hanno diritto. Grazie a tutti.